Il Comune di Pacentro ha aperto le prenotazioni per il campeggio localitale Coppe, luogo ambiro da turisti e visitatori durante il periodo di ferragosto. La prenotazione dovrà avvenire tramite il modulo di domanda, scaricabile da sitore comune, inviare la casella mail della Polizia Locale di Pacentro entro e non oltre venerdì 4 agosto. Al modulo dovrà essere allegato l'elenco dei partecipanti completori generalità, copia del documento di riconoscimento. A ciò si dovranno aggiungere il numero di targa dell'auto, per cui si richiede l'autorizzazione al carico e scarico agli estremi della patente di guida. Le tariffe giornaliere sono di 1 euro per i residenti, 4 euro per i non residenti, 6 euro a tenda. In previsione dell'alta richiesta, vista la necessità di ottimizzare l'assegnazione dei posti nelle aree 1, 2 e 3, di garantire l'adeguata sorveglianza solo ed esclusivamente per il periodo di ferragosto dal 13 al 15 agosto non sarà possibile prenotarsi per meno di 3 pernottamenti.